L'Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Vallo della Lucania ha organizzato insieme alla Fondazione Reti della Carità di Milano un corso di formazione sociopolitico presso l'Auditorium Giovanni Paolo II della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Agropoli, sabato 8 febbraio alle ore 16. L'iniziativa coordinata dall'Ufficio di Pastorale Sociale del lavoro della Diocesi di Vallo della Lucania nasce per volere dei partner delle Reti della Carità in collaborazione con il Club Giovanni Soci della BCC Buccino Comuni Cilentani. Lo scopo è creare attraverso laboratori una coscienza critica e attiva che contribuisca alla formazione degli individui e alla nascita di nuove proposte per il territorio, una scuola di formazione sociopolitica che dia spazio alle idee per un futuro più consapevole. L'esperienza formativa è rivolta ai giovani, agli operatori sociali e a tutti coloro che nel campo sociale, scolastico, professionale avvertono l'esigenza di approfondire tali tematiche. Andando avanti troviamo un incontro molto interessante per il nostro territorio perché si tratta di società e impegno per un welfare a misura di nuove povertà e abbiamo qui un'esperienza molto bella di Angelo Moretti che è un progettista sociale di Benevento che lavora con la pastorale sociale e che ci racconterà di un'esperienza molto bella che loro stanno facendo con i piccoli comuni dove c'è l'abbandono del territorio.